L'importanza di vaccinare anche i ragazzi dei 12 ai 16 anni e farlo prima del rientro a scuola, lo sottolinea il direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia della ASLA di Pescara. Ieri in Commissione in Comune il dottor Paolo Fazzi ha fatto il punto della situazione sul covid in città, rivolgendosi in particolare a quei genitori che sono refrattari alla vaccinazione dei figli. La vaccinazione è l'unica arma che abbiamo nei confronti di questo virus, in generale nei confronti dei virus, quindi se vogliamo ottenere dei risultati in termini di riduzione della circolazione del virus e di tutto ciò che ne consegue, quindi malati e purtroppo anche decessi, dobbiamo vaccinarci il più possibile. E soprattutto quella fascia di età dai 12 ai 16 anni è una fascia critica per la circolazione del virus, perché si tratta di ragazzi che vanno alle scuole medie e alle scuole medie superiori, quindi tra l'altro spesso aggregati in, sappiamo tutti come l'ambiente scolastico in senso lato, in spazi per lo più angusti per poter contenere un numero talora anche elevato di studenti. Sta di fatto che si tratta di soggetti che quindi si aggregano e possono far circolare più facilmente il virus. Quindi, essendo possibile effettuare questa vaccinazione ai 12 ai 16 anni, perché sono state fatte le sperimentazioni del caso per quanto riguarda i vaccini presenti in Italia, non vedo perché un giovane non debba vaccinarsi, anche perché oggettivamente non è che questo vaccino faccia più male al giovane o al bambino rispetto che all'adulto. Loro, tra l'altro, avendo un sistema immune più, diciamo, efficace, avrebbero la possibilità di rispondere meglio, tra l'altro, all'inoculazione del vaccino. Se ci vacciniamo tutti, riusciremo a creare un'immunità di greggie, non far circolare il virus e soprattutto daremo la possibilità ai nostri fragili, soggetti che non si possono vaccinare, di stare tranquilli, perché sono loro che potrebbero essere il ricettacolo di un virus che potrebbe veramente fare molto danno in questi appunto soggetti particolari. Quindi io penso che sia un discorso legato a un diritto, dovere civico, vaccinare al momento dai 12 anni in su e spero, quanto prima, dopo l'esperimentazione, poter vaccinare anche i soggetti decisamente più giovani, quindi diciamo gli under 12.